Andiamo! Serio? Era la spalla rotta questa, mi fa malissimo Bratelli, bratelli, mi raccomando arriviamo a 15.000 mi piace entro mezzanotte Se volete una nuova challenge, come sempre Se volete anche ricevere un cuoricino dal fratello Ezi Mi raccomando, scommettate qui sotto nei commenti Tutti quanti questi emoji, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina E buona visione! Are you ready? Ciao a tutti ragazzi, sono Electroquistoggi, signori, siamo tornati sul canaloz Con una nuova fu... Porco dia Con una nuova challenge, come vede io Abbiamo anche Uss Ciao ragazzi! Mi raccomando, arriviamo a 15.000 like entro mezzanotte Se volete, al più presto, una nuova challenge Yes! Quest'oggi, come avrete letto dal titolo, siamo qui con la Sleep inside challenge, ossia Abbiamo 5 tiri a testa a disposizione e chi farà più gol all'interno della porta vincerà questa sfida Ok! Round 1 Primo round! Oh si! Oddio! Ci siamo! Allora Parto io, primo tiro ragazzi Qua mi faccio malissimo raga Io vado fortissimo, in porta abbiamo tube Devo provare a fare gol a fratello tube Sei pronto? Vai vai! Vado eh! Minchia pranto, stai ci volando qui, mamma mia E' sassata Comunque si civo da un botto raga Ragazzi tocca a me Guarda qua, Michael Jackson arriva adesso La catapulta infernale, vado eh Quei sbi- Quei sbi- Ahahah 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 Ragazzi speriamo di non romperci nulla Ok Cos'è quella roba lì? Ma scorreggiato! Quello è il nos Vai vai Ahahah Ma quello è un ninja Ahahah 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 Boccia, boccia, boccia Boccia, boccia Boccia Si è spaccato la testa, fra Ma ho fatto gol almeno Per il momento siamo andati in gol solo noi Bene così Ragazzuoli, vado il primo round io con un tiro che probabilmente Chiaman boll 118 E non ho disatta Hai tube? Piano! 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 Ma dai, oh! Ma hai paura dei tiri di tube Probabilità sta a giro a rata A rata Termina il primo round Attualmente siamo in vantaggio youtube Partiamo adesso con il secondo Che vinca il migliore Chi ho paura di dislocarmi la caviglia Bene, bene, bene Vieni Vieni Zio, non vedo nulla Eh, rimettiti su, bravo Ragazzi Dai, sacchi qua Non respira Il mio 17 Se non lasciate like dopo sta challenge Per me è proprio all'estremo della Difficoltà perché io sono uno che ha molto paura di farsi male Vai turbo Ma cos'è sta roba da big foot? Aia 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 Faccio pure fatica a respirare Andiremo col secondo tiro Spero di non farmi male come prima Mano di luce Ragazzi Tocca a me Però io c'ho una tattica Per ridurre l'attrito Guardate un po' Ti andrebbe un po' di shwebs Solo io e te 3,2,1 Vai Tech Vai Tech Vai Tech Vai Tech Aaaaa Danza Rattola Beyblade Mod on Perfetto Termina il secondo round Partiamo con il terzo Attualmente situazione di estrema paretà Perché siamo tutti Aldo alla testa Guarda cosa faccio fra Ti vedo? Ci pulisco le mani Doviamo passare in vantaggio ragazzi Prenditelo 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 Andiamo Aia 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 son caduto malissimo di spalla Aia che male Aia mi ha scorchiato la spalla Zio mi ha scorchiato la spalla Aia mi fa malissimo Serio? Era la spalla rotta questa Mi fa malissimo Aiaiaiaia signore che male Sono rotto la spalla Ma almeno passiamo in vantaggio Terzo round Vede già passare in vantaggio Esector No Pesco tu Ma dai ma quello cos'è? GAY Oh C'ho piacere perchè Mia donna va così piano Ma in due l'ora Eh si fatti Questo ragazzo Ormai gli è vicino alla pensione Oh Oddio Oddio Che è? Stai sotto Lava scappa è mia Vado raga Il tiro della tigre sta arrivando Tube Aia 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 E porco due Fra 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 Quarto round ragazzi Attualmente stiamo comandando la classifica Dobbiamo tenere la distanza da tutti quanti perchè la once cup la voglio tenere io Questa è la mossa del cabrone La mossa del cabrone Mossa del cabrone Quando vuoi fra Colpisci Qualche round ragazzi che lo dobbiamo un po' regalare a questi qua Tocca di nuovo a me Guardate qua Guardate qua Adesso parto Tube Tornado di fuoco eh Tornado di fuoco Tornado di fuoco Mamma mia Aia 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 Quinto E ultimo round Poi lo sapete che fratello martello schabello è un cavallo patto Aumentiamo il coefficiente di difficoltà Però pariamoci perchè è l'ultimo round Devo portarmi a casa questo bel Questa bella Carca minestra Aia 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 Bossa ragazzi sta uccidendo tutto Siamo agli sgoccioli Questo è il mio ultimo tiro Del mio ultimo round Se riuscirò a fare questo punto Qui riuscirò a pareggiare con Tuberanza Non è Tuberanza È Zector Come ti chiami tu? Ma fammo Vai Ussa Aiuto ragazzi Una volta Tube Io capisco che tu non vuoi farmi avere ancora la OneScap Però dai La prendeva anche mia sorella Finiscono i 5 round Situazione di estrema parità Per me e per Ussa Però per decretare Chi sarà il nuovo vincitore Chi porterà a casa la OneScap Adesso andiamo ai vantaggi Ok? Voglio portarmi a casa la OneScap E via La OneScap No Non ci credo Cassia Ti prego Tube Andiamo Mano di luce Mano di luce Cazza Rossi Speriamo di farcela Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ropendo che Quindi Bomberoni Anche questo video Ormai è giunto al termine Abbiamo un vincitore Una battaglia molto Combattuta La sua prima OneScap Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Iscrivetevi anche al canale E noi ci vediamo Ad un prossimo Appuntamento E noi ci vediamo